Ora diranno che questa Commissione europea è una commissione di sinistra, di comunisti, che fa propaganda contro il governo, che i rifiuti in Campania sono stati tolti, il problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania è stato risolto perché è venuto giù il Cavaliere dal nord e ha risolto i problemi, il grande risolutore ha risolto i problemi. Io ho degli amici che sono stati giù a Napoli una decina di giorni fa e mi hanno raccontato che è altro che risolto, a parte il centro e qualche vieta così, però le vie più interne, le vie più periferiche sono ancora piene di pattume e se poi vai proprio fuori in periferia allora sì, allora trovi uno stato di degrado e mucchi di rifiuti un po' dappertutto, quindi non è stato risolto niente, tant'è che questa Commissione europea è tornata sconvolta. il grande risolutore fa solo tanto fumo e niente arrosto, come sempre, come al solito e la gente ci crede, bravi! Grazie! 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 Grazie!